Buonasera, da studio aperto allarme ai migranti, numeri in continuo aumento. Solo negli ultimi giorni gli arrivi sulle coste italiane sono stati oltre 6.500. La gestione dell'accoglienza è sempre più complessa e i sindaci chiedono nuovi aiuti economici al governo. Erano in 650 ammassati su questo peschereccio arrivato nella notte a Roccella Ionica in Calabria. Mai così tanti sono approdati sulle coste Calabria percorrendo questa tratta, dicono le autorità. Stiamo vedendo, ed è questo un cambiamento, anche l'utilizzo di mezzi, tipo appunto quello che è arrivato stanotte, vale a dire un grosso moto peschereccio proveniente probabilmente dal Nord Africa, dalla Cirenaica. Prima ancora di ormeggiare, in molti si sono gettati in mare per raggiungere la riva a nuoto. Le forze dell'ordine preallertate erano sul molo a prestare soccorso, identificati i presunti scafisti. Sarebbero sette le persone fermate e sottoposte ad indagini, secondo quanto previsto dal nuovo decreto Cutro. Se così fosse, rischiano fino a 30 anni di carcere. Un flusso incessante. Secondo i dati aggiornati dal Viminale, sono quasi 30.000 emigranti sbarcati da inizio anno, 6.500 negli ultimi cinque giorni. Di questi, 1.400 sono arrivati a Rampedusa e ospitati in un centro di accoglienza già al collasso. Una situazione esplosiva raccontata da queste immagini. In 600 sono stati trasferiti la scorsa notte dalla nave della Guardia Costiera Diciotti. Domani la nave di Emergency farà sbarcare nel porto di Ortona. In Abruzzo 161 persone salvate nel canale di Sicilia. Mentre a seguito dell'infrazione del decreto Piantedosi, l'imbarcazione Louise Michel, finanziata dallo street artist Banksy, deve rispettare il fermo nel porto di Lampedusa.